di farla all'antiteatro la stagione visto che non abbiamo la possibilità di farla e devo dire che insomma partì questa cosa qua che andò bene, andò bene chiaramente perché c'è stato un bel lavoro dietro con Fabrizio che è inutile, che devo dire, non dico nulla, dico solo grazie di cuore perché non poteva non andare bene quando programma qualcosa con degli artisti meravigliosi con Tettino Dusse, il suo teatro pubblico pugliese che è stato veramente bravo nel mettere insieme tutto quello che c'era da mettere insieme, con Raffaele Piemontese che credette in questo Sessore al bilancio della regione Puglia così come quest'anno quando gli ho telefonato per dire senti Raffaele ma che facciamo, facciamo sta, ripetiamo Essere felice di presentare questa importante rassegna di eventi culturali, sapere che il nostro meraviglioso artiteatro verrà frequentato da personalità illustri della cultura italiana mi riempie di orgoglio, mi riempie di orgoglio, mi rimasta a casa per troppo tempo, sarà quella boccata di aria che solo la cultura contare e che aspettavamo da parecchi mesi, per tanto ci aspettiamo alla città della Lucera.